Decisioni che cambiano continuamente, poca chiarezza nelle indicazioni e una gestione complessiva che sta lasciando parecchio a desiderare. E' ancora polemica sull'organizzazione della Notte Bianca e c'è chi, davanti a tutta questa incertezza, a meno di 48 ore dalla festa ha deciso di tenere chiuso il proprio bar in Piazza della Vittoria. Si tratta del Baccaro, situato sul lato che, tra l'altro, non è nemmeno interessato dal DJ set e dovrebbe quindi sottostare a regole meno stringenti, almeno sulla carta. Non sono contrarie alle norme e alla sicurezza che hanno deciso di imporre, perché la sicurezza è sempre una priorità. Però non è possibile, secondo me, che ad oggi, a due giorni, alla Notte Bianca, non abbiamo ancora informazioni concrete, certe, di quello che sarà di noi. Io so soltanto quanti tavoli posso mettere e anche questa cosa l'ho saputa lunedì. Di solito io i turni dei miei dipendenti li organizzo almeno dieci giorni prima, ma per rispetto loro e per rispetto di quello che loro devono fare oltre al lavoro, perché non è che hanno solo lavoro nella vita, spero per loro perlomeno. Punti di domanda sulle forniture e sui turni del personale e di vieti che appaiono un goffo tentativo di fermare le onde con le mani, più che un deterrente a fenomeni di mala movida. È il caso del divieto di somministrare superalcolici. Va bene che la gente non si sfondi di alcol, che non sia ubriaca, però bevendo 20 birre o 3 bottiglie di vino raggiunge lo stesso grado alcolico e lo stesso brio che si può avere con un gin tonico o un amaro dopo cena. Io non posso dare un caffè e un amaro, però posso dare 25 birre. Ad oggi io non so ancora se e dove posso mettere la spilatrice. Posso mettere una spilatrice, ma mi hanno detto prima vicino al portico, poi no, poi in con i cavi via aereo, poi ancora sotto il portico. Io sinceramente i cavi via aereo da sola non li so montare e non ho le finanze per chiamare un tecnico tra l'altro due giorni prima. Una situazione caotica che ha riguardato fino a poche ore fa la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli a cui prendono parte oltre al comune anche le forze dell'ordine e la prefettura. Per questo motivo il Bacaro ha deciso di chiudere in concomitanza con l'inizio del DJ set. La notte bianca dovrebbe essere un momento di condivisione e dovrebbe anche esserci non solo un evento in uno solo punto della città. Ma tanti piccoli eventi per la città, come era tanti anni fa, la prima notte bianca, la ricordo ancora, con egli e le storie tese, gratuito, in castello, e ogni singolo locale che poteva fare il piccolo evento, che era il concertino, la lettura di poesia, un piccolo spettacolo teatrale, tutto nella sicurezza assolutamente, però dar la possibilità a tutti di scegliere come e quando e dove godersi la notte bianca.